Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per l'ennesimo appuntamento elettorale di questi speciali appunto di Talk Sicilia che stiamo producendo per farvi conoscere i candidati alla presidenza della regione principalmente ma anche alcuni dei principali candidati alle elezioni politiche nazionali, chi ha scelto di correre per la Camera e il Senato, chi ha scelto di correre per la regione. Quest'oggi è il nostro ospite in studio Fabio Maggiore, candidato alla presidenza della regione d'Italia sovrana e popolare. L'ultima lista che è comparsa almeno sui nostri radar quando abbiamo raccontato un po' il percorso che ha portato verso queste candidature, ricordiamo i candidati che si erano presentati, inizialmente erano 9, si sono ridotti a 7 perché 2 liste non sono state ammesse perché non c'erano i requisiti di legge in quanto non c'erano le 5 liste provinciali minime richieste per gli altri candidati, questi 7 sono invece quelli che dovrebbero correre anche se cominciamo da un aspetto perché c'è già un ricorso e ce lo facciamo raccontare cosa succede proprio da Fabio Maggiore. Sì, diciamo che abbiamo raccolto oltre 2000 firme, quindi parecchi sottoscrittori hanno sostenuto il partito, abbiamo consegnato tutta la modulistica necessaria, solo che c'è stato un intralcio, un cavillo legale che ci auguriamo di superare al meglio, non solo per tutti i candidati, ma anche per tutte quelle persone che hanno firmato, siamo stati tra i primi per sottoscrittori del partito. Un problema legato sostanzialmente a una forma di documentazione che in ordine allo statuto speciale parrebbe non essere perfettamente conforme perché mentre su un piano costituzionale, su un piano nazionale la firma dell'avvocato d'autenticatore poteva in qualche punto speciale siciliano, occorreva la firma del notaio d'autenticatore, una firma che comunque sia abbiamo ottenuto, ricordo la domenica, per integrare entro le 48 ore perché la legge consente quindi l'integrazione, con tanto di protocollo e di verbale rilasciato, quindi dall'ufficio preposto, quindi dove abbiamo in qualche modo la documentazione a nostro favore, però nonostante ciò c'è stata una recusazione, una respinta. Abbiamo fatto ricorso e questo ricorso ritrova una seconda recusazione per la quale stiamo continuando perché dall'altra parte riconosciamo che abbiamo tutte le carte in regola per poter partecipare e quindi vorremmo concorrere con gli altri come legge e democrazia vorrebbe. Ecco, questo ve lo dovevamo raccontare, chiaramente c'è un ricorso pendente, vedremo, vi racconteremo quando arriveranno i risultati, come sarà andata, ma intanto ad oggi la lista Italia Solana e Popolare è in corsa anche se sotto ricorso per quello che sta succedendo, quindi vi raccontiamo questa candidatura. Cominciamo da qui, intanto ancora grazie per essere qui con noi, mi era sfuggito il ringraziamento tradizionale in questa prima fase e allora partiamo da qui. Italia Solana e Popolare, che lista è? È una lista che ha al suo interno tante anime di tante estrazioni, facciamo capire chi ci segue, chi siete e cosa volete fare. Allora, Italia Solana e Popolare nasce da una unione di partiti che si sono ritrovati a fare una sorta di unione di intenti, legato anche a delle convenienze elettorali, perché quando un partito in qualche modo si unisce a un altro partito, ecco la soglia di sbaramento cresce, laddove invece si crea una sorta di contenitore unico, ecco la soglia di sbaramento in qualche modo si riduce, quindi per convenienza ci siamo ritrovati davanti a un tavolo, abbiamo detto, sposiamo la stagante maggioranza dei punti, quindi per il 70-80% delle idee convergiamo, ritroviamoci insieme e creiamo in qualche modo percorso questa esperienza politica dove all'interno c'è ancora Italia, il cui leader è Francesco Toscano, il partito comunista di Marco Rizzo, azione civile di Antonio Ingroia e riconquistare l'Italia di Stefano D'Andrea, devo dire che questa esperienza l'ho vissuta in modo molto positiva perché ho avuto modo di conoscere persone che effettivamente seppur uscenti da ideologie, magari estrazioni diverse, con dialettiche diverse, comunque sia ci sono trovati in un percorso comune dove l'emergenza anche del momento ci porta a condividere questa battaglia insieme, per esempio sposiamo tra i punti di programma che ci hanno trovato uniti, quello per esempio di contrastare tutta quella direzione per esempio probellica, riconoscendo anche nella Sicilia e come anche nell'Italia una nazione e una regione che rifiuta, rifiutano la guerra, quindi cerchiamo in qualche modo di opporci a questa visione monolitica secondo la quale la Russia e il male per eccellenza e quindi dobbiamo per forza di cose spingere verso sanzioni economiche che d'altra parte si riversano in tutta Europa perché dal 25 ma già iniziano il caro bolletto e in qualche modo colpirà tutti e quindi questa visione in qualche modo di un pensiero monolitico che porta a una spinta anche mondialista, vorremmo in qualche modo ritrattarlo con una visione un pochettino più multipolare. A questa visione ci ritroviamo quindi a condividere anche una lotta perché all'Iolo regionale in qualche modo noi nasciamo per contrastare la malapolitica, noi diciamo come programma vogliamo in qualche modo bonificare la politica, cioè vorremmo far passare questa pallude in qualche modo che è una pallude sterile a un terreno florido dove poter coltivare valore, poter permettere ai siciliani e anche ai giovani di non emigrare ma di poter vivere in questa terra che parrebbe dannata per quanto bella, quindi come possiamo a livello regionale contrastare la cosiddetta mala gestione? Sicuramente noi ci siamo resi conto, seduti a un tavolo con tutti in qualche modo gli attori sociali, gli attori politici, abbiamo parlato con insegnanti, con medici, con poliziotti e con tutte quelle persone che lavorano sul campo, innanzitutto ci siamo resi conto che la gestione sia dei rifiuti, sia della rete idrica, sia tutto che concerne anche la sanità, trovo una gattiva gestione spesso perché c'è davanti il privato, noi per esempio contrastiamo le privatizzazioni che spesso permettono delle logiche per esempio clientelari o comunque sia che devino da quella logica democratica, per esempio voto di scambio o altri sistemi che purtroppo ingrassano spesso e malvolentieri i sistemi e anche gli organismi mafiosi e quindi vogliamo creare un contrasto, cioè noi crediamo che con la sana politica possiamo sia ripristinare il valore quindi nell'interesse generale di tutti, sia allo stesso tempo avvicinare gli astenuti, perché l'astenzionismo è un fattore molto grave che dimostrerebbe che i politici hanno fallito. Spezzettiamo un attimo l'argomento e cerchiamo di affrontarne in una parte, quindi in buona sostanza siete non per la privatizzazione ma per l'ufficializzazione, la pubblicizzazione delle attività principali, che è un concetto di sinistra. È un concetto, io definirei in questo caso quando la politica è sana e giusta, io vorrei dire che la politica è trasversale, non c'è una direzione, io quando parlo di sinistra io ho la mano, questa è sinistra e questa è la mano destra, per me se parliamo di direzioni quando guido l'auto dico giro a destra e giro a sinistra, ma quando parliamo di politica se è una politica è sana e giusta, è trasversale, io potrei dire anche forse più socialista nei termini di condivisione del valore secondo una politica sociale, quindi senz'altro le privatizzazioni sono nate perché col pretesto che il pubblico, siccome era inefficiente e inadeguato, dovesse dunque privatizzare, perché nell'epoca berlusconiana, anche ricordiamo negli anni, non c'è stata proprio una bellissima gestione, c'è chi qui in Sicilia attende Berlusconi a braccia aperta e c'è chi invece avrebbe da ridire, ma d'altronde sì, nazionalizzare significa che la regione si prende le responsabilità, si fa datore dell'economia e agisce all'interno del mercato. Ma con la situazione attuale dal punto di vista economico, l'epoca della regione fra virgolette imprenditrice si è detto molte volte è un po' finita, secondo voi invece deve tornare e ci sono le condizioni economiche perché possa tornare? Ma senz'altro deve tornare perché noi guardiamo il trend economico, anche da economista quale sono, io guardo tutto quello è stato il processo demolitivo del tessuto socio-economico dal momento in cui abbiamo privatizzato tutte le risorse, tutti gli asset e i settori strategici che interessavano lo Stato, questo è un pensiero non solo regionale ma anche statale, noi riteniamo che le amministrazioni pubbliche debbano ritornare a controllare e domare il mercato, perché nel mercato purtroppo non ci sono logiche democratiche, ci sono logiche dove chi ha il capitale può anche in qualche modo investire e anche giocare in un modo, se vogliamo anche eversivo rispetto all'ordine democratico, noi vorremmo invece un'amministrazione pubblica più efficiente proprio perché riconosciamo che l'interesse generale non potrà mai essere fatto dal privato che persegue il profitto interessi particolari, ma questo lo studiamo anche in economia, dunque non ha alcun senso privatizzare. Voi vi definite sovrana e popolare, non sono due concetti che rischiano di essere in antitesi almeno nell'immaginario collettivo. Ma in realtà è proprio la bellezza della sovranità è proprio collegata al popolo, cioè noi quando vediamo l'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo, quindi se la sovranità si slega dal popolo dovremmo preoccuparci, invece noi sottolineiamo un'Italia sovrana perché crediamo fortemente che l'Italia debba essere sovrana nel senso sovra, fuoriuscita quindi da quei meccanismi che la subordinano, per esempio da ingerenze, interferenze che possono appunto deviare dal giusto corso della democrazia, è popolare perché sostanzialmente il popolo deve ritornare a fare la politica, noi siamo figli del popolo, io dico sempre che non sono il vostro presidente di partito, sono il vostro portavoce, noi seguiamo un programma perché lo condividiamo democraticamente ed è una cosa bellissima, non voglio essere solo il portavoce del mio partito, ma il portavoce di un popolo siciliano che è stato per troppo tempo abusato, aggredito, quindi essere anche rappresentante di tutti quelli oppressi e discriminati. Ci sono partiti a destra che vengono accusati di essere appunto sovranisti e da questo punto di vista chiaramente voi siete in una posizione molto diversa, le idee che state esprimendo qui in questo momento sono opposte a quelle che sono molte delle idee della Meloni piuttosto che di Salvini e di chi viene con loro, ma a questo punto vi chiedo, rispetto alla comunità europea, come vi ponete secondo il vostro concetto di sovranità? Noi crediamo fortemente nella sovranità, innanzitutto il sovranismo è anche un po' relativo perché molti partiti hanno cavalcato un po' anche la terminologia e quindi hanno portato a un distacco, perché se noi pensiamo alla ricerca della sovranità, io penso che debba essere ambita da ogni individuo in questa terra, perché se non sei sovrano, non per fare tanti di parole, ma il contrario è schiavo, quindi la bellezza della sovranità sta proprio in questo, essere uomini liberi e capaci in un modo di esprimersi e autodeterminarsi, nel caso della Meloni, nel caso di Salvini, questi erano più schiavisti che sovranisti, però chiaramente l'etichetta serviva per allontanare da quelle persone che realmente vogliono fare la politica nell'interesse della sovranità popolare, quindi noi ci poniamo su una visione chiaramente di una sovranità rispettata anche in ordine onologico europea, perché al momento in cui ci dicono che agli uomini europei dobbiamo cedere sovranità, vedete l'assurdo no? Cessioni di sovranità per un mondo migliore eccetera, beh questa è una demagogia di uno schiavista che sta ingannando, perché reclamare la sovranità di un popolo, la sovranità altrui è un atto di fatto criminale, noi dovremmo accorgerci di queste parole che sono molto pericolose, chiaramente dette in una certa maniera sono più morbide, in qualche modo una leggerezza della gravità, poi perché in qualche modo alleggeriscono il peso di un inganno, di una manipolazione, noi non possiamo cedere la sovranità, l'unione europea come noi la contempliamo, dovrebbe essere un'unione dei popoli e degli stati europei in ottica anche di rispetto delle sovranità nazionali, quindi una sommatoria di sovranità nazionali e del rispetto degli stati, cosa che non è avvenuta nel momento in cui invece hanno ceduto, hanno smantellato gli stati osautorando i poteri statali, dunque calpestando i popoli negli interessi dei mercati internazionali, questa è una cosa criminale. Come cambiare allora questa direzione secondo voi? A livello regionale chiaramente noi ci opporremo a quelle dinamiche quindi che tendono ad evertere ogni logica democratica e cercheremo di spingere verso la valorizzazione delle risorse interne, quindi contrastando quelle logiche globali dove dicevano sempre apriamo i cancelli, liberalizziamo tutto e dimentichiamoci del valore che abbiamo al nostro interno. Noi in Sicilia, già che abbiamo anche degli svantaggi collegati anche all'insularità, è uno saluto speciale di autonomia fondamentale dove significa autonomia cercare di valorizzare le proprie capacità produttive affinché laddove ci fossero dei shock esogeni per esempio da crisi finanziarie, crisi pandemiche, crisi ambientali, crisi economiche, tutto quello che volete, abbiamo una capacità di risposta superiore rispetto a quella che si crea quando hai una dipendenza con tutti questi fili e queste diramazioni che poi ti portano a collassare. Rispetto all'immigrazione allora perché siamo sempre lì, ci sono temi che rischiano di apparire almeno contrastanti fra loro? No, perché il problema è che noi contrastiamo non solo il sistema globalista che tende a mercificare l'uomo, ma se noi guardiamo in quest'ottica tutto trova una sua spiegazione. Chiaro è che se la guardi con l'occhio del leghista, Salvini per esempio dice porto chiuso porto aperto, la gente non capisce nulla, si confonde, anzi crea divisioni sociali perché in qualche modo incattivisci la gente. Invece se ragioni al fenomeno migratorio, guardando alle cause profonde che spingono le persone a lasciare la propria terra, come anche accade in Sicilia, spesso è per fattori coloniali, per fattori imperialisti, dove ci sono delle persone anche in Africa, multinazionali che ti portano a scappar via, ad essere un proprio disgraziato. Quindi nel contrasto oppresso e disgraziato, noi dovremmo alzare la testa e dire, alto, c'è un oppressore sopra che ci sta mettendo l'uno contro l'altro, è ora di finirla. Questa è una cosa, anche in questo periodo di campagna politica elettorale, in qualche modo tenderanno a infinocchiarci, facendo promesse e contropromesse, ma come faranno? Io dico sempre una cosa di coerenza, persone che negli anni hanno in qualche modo partecipato e gestito la mala politica, quindi sono i primi responsabili a cambiare in qualche modo anche volti, perché poi il contenitore è sempre lo stesso, cambiano il volto e fanno promesse, ma stanno promettendo una nuova politica che in realtà è quella che hanno rappresentato fino a ieri, quindi c'è una forte contraddizione. Qui io mi appello a tutti i siciliani, a tutti gli elettori, a tutti gli astenuti a non cadere nuovamente nelle ennesime farse di demagoghi, di ingannatori, eccetera, e ricordare, ricordare quello che ci hanno fatto. Ma come si esce però da tutto questo? Perché il vero tema è, dando per buono, io chiaramente non entro nel dettaglio delle idee di ciascuno dei miei ospiti che sono liberi di esprimere quello che è il proprio pensiero, ma spiegateci come si fa a risolvere il problema delle migrazioni in quest'ottica. In quest'ottica, ripeto, se noi non abbiamo un occhio, una visione di insieme, e non capiamo le cause profonde di tutto quello che sta accadendo attorno a noi, chiaro è che non riusciamo a frenare il flusso migratorio, né a capire. Però per capirci, quello che voi tendereste a fare è frenare il flusso migratorio intervenendo alla base sulle cause di questi flussi? Sicuramente denunciando i crimini che avvengono all'interno anche delle terre dove la gente viene abusata, come d'altronde siamo stati abusati pure noi, perché quando il giovane siciliano deve emigrare e andare via dalla Sicilia, sostanzialmente non è a quei livelli come accade spesso in Africa, nelle zone ancora più disagiate e disastrate, però seguendo guardiamo siamo molto vicini, cioè la logica è sempre quella, ci sono degli approfittatori, degli oppressori, dei predoni che ci condizionano in questa maniera, quindi se noi non capiamo che queste multinazionali, per esempio, che questi alti sistemi finanziari stanno lucrando e speculando sulla vita della gente, dicendo no, queste persone dobbiamo riportarle a casa, oppure sì, facciamole entrare e poi però non capiamo neppure le ragioni per le quali magari muoiono nel deserto o nel mare, negli oceani, eccetera, dico questa è una cosa molto triste, io dico siamo esseri umani, dobbiamo iniziare a ragionare tra esseri umani, dobbiamo smetterla di permettere a queste persone di soggiocare la gente, perché ci sono tratte di uomini mercificati dove lo sanno i politici che il problema sostanziale è quello lì, cioè il fatto che da una parte noi guardiamo anche il tasso demografico siciliano e vediamo che c'è un invecchiamento e non c'è un tasso di natalità idoneo per mantenere in piedi un popolo, perché qui c'è uno, cioè veramente stiamo depopolando la Sicilia, l'Italia, l'Europa in generale e d'altra parte i giovani sono costretti a emigrare, non per l'assenza di lavoro, perché di lavoro ce n'è a Iosa, ma se queste persone continuano ad affamare la gente, continuano a concentrare ricchezze con la mala politica, perché qui ingrassiamo con le grandi opere, con le grandi strutture, ingrassiamo la mafia, la mafia non è esterna ai palazzi e come diceva Pietro Scaglione, Paolo Borsellino, Gioni Falcone, è interna, non per nulla il nostro partito trova magistrati come Ingroia o anche il finanziere che in qualche modo cercava di contrastare Matteo Messina Danaro, Calogio Pulici e d'altra parte troviamo invece partiti che hanno avuto non più di un indagato, molteplici indagati nonché anche condannati per mafia, anche questo dovrebbe essere valutato dall'elettore, cioè andate a votare, ma andate a votare bene, perché l'importante è una lotta contro la mala politica, contro il fenomeno mafioso, contro le ingiustizie di tutti i siciliani abusati, credeteci, non smettete di credere, io dico spesso non votano perché hanno smesso di credere alla politica perché sono stati traditi, il Movimento 5 Stelle ha tradito, la Lega ha tradito, i Volta Gabbana vi hanno traditi, benissimo, ma non smettete di credere all'amore, elaborate il tradimento e scendete in campo, ritornate a credere all'amore, ritornate a credere alla politica, la politica è una cosa sacra, da cui dipende l'amministrazione e la vita di tutti noi, nel bene e nel male, non possiamo lasciarla a persone che si vede già nei volti, hanno altri interessi. La domanda che ho fatto, le due domande, la prima che ho fatto a tutti gli ospiti candidati Presidenti della Regione, nell'eventualità che domani mattina fosse eletto Presidente della Regione, i primi 100 giorni, quali sarebbero le prime azioni che metterebbe in campo da Presidente? Allora, diciamo che come azione innanzitutto dovrei capire dove è il bagno di Passo d'Orlean perché non saprei neppure dove girarmi, perché non saprei neppure dove è la carta igienica o altro, quindi senz'altro i primi 100 giorni sarebbero di capire gli uffici preposti per poter agire. Innanzitutto, diciamo, una cosa anche che il politico spesso non fa è riconoscere le proprie incompetenze, perché non siamo tuttologi che sappiamo fare tutto, quindi, diciamo, avere la capacità anche di formarsi e trovare delle persone tecniche che lo possano appoggiare in quei campi che possono essere utili, quindi soprattutto è fondamentale l'onestà da combinare alla competenza, quindi capire tra le mani dove poter agire con tutte le tempistiche, perché sappiamo che poi ci sono le tempistiche, le realtà i bilanci e tutte le varie situazioni diciamo gestionali, ma questo è un processo che la competenza si può formare negli anni, ok? L'onestà, puoi essere ventennale, trentennale, se sei un disonesso o disonesso rimarrai, quindi io preferisco avere una persona che in quei cento giorni doveva capire da che parte è girata, in quell'ufficio si trova una carta piuttosto che un'altra, ma è onesta, piuttosto che una persona è lì da anni e già in qualche modo sta dove mettere le mani in pasta, ma ecco, che non è poi perfettamente onesto nelle logiche di gestione, ecco, quella è la via, la via è semplicemente cercare di aprire palazzi, non dico come le scatole di tonno, come faceva Ecco Grillo, ma semplicemente per creare una bonifica, mettere persone che rappresentano davvero gli interessi popolari, perché da anni, purtroppo, per via anche di un reticolato che ormai hanno costruito un bacino di voti consolidati, non per il voto di opinione, perché molte persone purtroppo vanno a votare semplicemente perché d'altro lato c'è una promessa, non prendiamoci in giro, questa è la triste politica siciliana, perché laddove c'è il bisogno purtroppo è il terreno fertile che fertilizza ecco anche i rapporti che vanno a distorcere la logica democratica. Democrazia significa potere al popolo e deve ritornare con Italia sovrana e popolare. Bene, l'ultima domanda perché stiamo esaurendo il tempo ed è questa, l'appello al voto che chiedo a tutti i nostri candidati, perché un siciliano dovrebbe votare Fabio Maggiore, Presidente della Regione e Italia sovrana e popolare? Perché Fabio Maggiore non ha macchie curriculari? Perché Fabio Maggiore da anni combatte e denuncia sistemi bancari e finanziari perché vorrebbe ripristinare uno Stato e delle regole più sane e dirette al popolo, negli interessi popolari, quindi vorrebbe fare un po' di pulizia, perché Fabio Maggiore ha 36 anni ed è una mente lucida e giovane rispetto a quelle altre persone che da anni hanno gestito la politica e quindi hanno dimostrato nei fatti di non saperla gestire, quindi io sarei una carta ex novo e quindi una carta che potrebbe essere provata, laddove si dice cambiamento. Il cambiamento deve essere radicale, cioè dobbiamo recidere tutti i rami secchi, dobbiamo troncare con tutta quella politica che cambia il volto ma il contenitore è sempre fallito. Hanno fallito i partiti di sistema tradizionali, noi siamo un nuovo partito che avanza, si chiama Italia sovrana e popolare e dunque è una scelta che deve essere fatta, perché se non si fa questa scelta non proviamo l'ultima carta, è finita. Ripeto e ribadisco, quello che sarà dopo il 25 settembre sarà un disastro totale. Se non si ha la capacità di operazioni straordinarie, di mettersi di traverso contro tutti quei sistemi sovranazionali che hanno distrutto il tessuto socio-economico e hanno impoverito la gente, siamo già morti che camminano, quindi dobbiamo avere il coraggio delle nostre idee e delle nostre scelte. Bene, grazie a Fabio Mangiore per aver accettato il nostro invito e aver passato questi minuti con noi per raccontare ai nostri telespettatori, ai nostri lettori quali sono le idee di tale solane e popolare. Ci auguriamo di poter tornare a parlare dopo che si sarà risolto quello che è apportato a un ricorso, auguriamo evidentemente un percorso che sia democratico per queste elezioni. Lo ringraziamo quindi per essere stato con noi, ringraziamo soprattutto voi che ci avete seguito anche in questo appuntamento e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.